Direi di andare a sto punto Non di qua, ho sbagliato Direi di andare ad aprire il basement Allora, se non me le fai usare tutte subito Sono, mamma mia Sono contento Caricamento Oddio, cos'è? Dove siamo finiti? Corvi appesi, mamma mia Terribile Mamma mia, che infarto I cani corvo Dove siamo, di grazia? E niente Ok, oddio Chi è? Cos'è? Una padella? Ah no, è il Tony Truss Una padella Aiuto Aia Che dolore, meno male che fa la trottola Chi è? Ma si è curato? Aiuto Ti sta in locco? Ale Mamma mia Mi dà il Tony Truss per caso? Sì Eh, insomma Va assolutamente potenziato Oddio, che brutti I ratti cani Quello lì è bloccato lì E io ne approfitterei anche Ale No, 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 no Dio santo No, troppo vicino, troppo vicino, troppo vicino No, non l'ho preso Tiriamo qui Non so cosa Dovrebbe succedere tirando Ma Ah Ogni tanto gli faccio nulla Letteralmente nulla di danno E buonanotte Che palle questi Che palle Vediamo se riesco a prenderlo da qui No È meglio di Bloodborne normale Aia Ehi C'era un'altra scala Mi sembra Vero? Oddio santo Dove mi sono infilato? Uh Vediamo cos'è Io lo uso Ah, è quello Sì, 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 sì Ok È un oggetto arcano Aha Ci ricollegheremo alla clinica Per caso Qui c'è qualcosa di sospetto Mi aspetto Un Il terrore No Però con la sangue da sopra E infatti, guarda Dio santo Io pensavo fosse una stanzetta Ok Un ascensore Fermi tutti C'è un ascensore Mamma mia Qui Locked E niente Un ascensore mi sa di Fine di qualcosa Quindi Piano Ah Attenzione Dove ci stiamo Ricollegando Perché Eh, vedi Ci siamo ricollegati Alle Fogne Mamma mia Che pathos È Secondo me Guarda, eh Guarda No Oddio Un altro cacciatore Wey Oddio Questo mi spacca In due Forse è meglio Wey La Salve Forse è meglio Che lo supero Magari c'è una lanterna Via Guarda Mamma mia Mamma mia Aiuto Mamma mia Dove Dove sono? C'è un Porca miseria Una scala da tirare giù? Ho capito dove sono Aiuto Eh, vabbè Però Ho capito Vicino Alla lanterna A una lanterna Che ora non so come descrivervi Aiuto Dov'era più La lanterna Ah no, vabbè Andiamo da quella Principale Diciamo Torniamo Al sogno Ok Abbiamo la cosa A livello massimo Potenziamo anche L'armona qui Forse gli facciamo Il backstep da qui Se non è Troppo furbo Eh, però non ha funzionato Senti Senti Allora Con sta pistola Tiè Tiè Schivo Sti affari Tiè Eh Non ti curare Sei già Fortissimo C'è anche bisogno Di curarsi Pianissimo Dai che è morto Ale Dio santo Dammi qualcosa Di fortissimo Ti prego Ahà Immagino siano Quelli che gli facevano Lanciare Quei Quei teschi Torniamo alla lanterna Che È rimasta Solo una cosa Da fare Finalmente Eccoci Ma prima Mettiamoci Il carillon Stupendo Pronti? Oh wow Mamma mia Mamma mia Se è bellissimo Oh andiamo Ah ecco Aiuto Ma è fortissimo Ok Mamma mia Uh Però Si trasforma Non ancora Ha solo trasformato L'arma Eccolo Eccolo Dai Dai Ha funzionato? No No Così Oh Dio Dio santo Per pochissimo Per pochissimo Oh Guarda Non l'avevamo ancora vista La nebbia La nebbia No 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 Non subito Così eh Ahia Non sparare Per l'amor di Dio Ahia Ah è il momento Dai che manca niente Di nuovo E' andato Mamma mia Ho il fiatone Ah L'ascia E Un badge Dio mio Qui Dovrebbe essere chiuso Esatto Ah Ho sbagliato? Dovevo Oh no Non è che ora finisce E mi perdo le cose? Ok Cosa è successo? Qui c'è Per caso Ah si Dovremmo ancora Tornare al sogno Ora però Voglio dare gli echi A questi qui Si Ah ah E' cambiato qualcosa Ehm Oddio Sono tutte Disattivate Ok Andiamo qui Cosa succede? Di là Non si può andare Abbiamo Il ciondolo Da portare alla bambina Lasciala proviamo Ma Per ora Meglio La nostra affidata Mannaglia Oh madonna Santa Madonna Cos'è? Oh madonna Cos'è? Oddio Santissimo Eh no Mamma mia Ti prego Muori Non è che Bisogna Semplicemente Scappare A sto punto Mi sa di sì Cerco di scappare Ah ecco Cosa serviva Questa stradina Maledetto Maledetto Mostro Aiuto Via 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 Qui? Oddio Aspetta No 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 Fermi Eh lo sapevo Mamma mia No Stai Fermissima Vai Oh madonna Santa Pure i ratti Sono impazziti No Ti prego Di qua Ok Qui sembra Più o meno Normale La situazione È insanguinato Eh Ho visto Anche i ratti Erano insanguinati No Ok Oh no Ancora Si sta nascondendo Di qua Di qua Di qua Di qua Dove devo arrivare Però Oh madonna Oh Le bestie Beh voi siete Uguali Siete più resistenti Forse Ah e fate anche Più danno Mamma mia Fermoli Posso Riaccendere Si Ok Perfetto Ma dove sono finito Ah ho capito Ho capito Dove sono Posso passare da qui Oh no Eccola Bravi Poi Oh grazie Dio mio La supero di corsa No Via 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 Spero Sia la strada giusta Sto tornando Al falò Principale Diciamo Falò Lanterna Oh lanterna Cosa succede qui Io salvo Eh Andiamo Oh mamma mia Oh mamma mia Ah qua c'era Gilbert È vero Dalla finestra Cosa succede Ho un'ultima richiesta Ho un'ultima richiesta E c'è una chiave Qui c'è un'altra porta Però Prima Voglio salire le scale Ah Ce l'ho vero Eh Ho quella del primo piano Ok Qui ci Uniremo Ah Pensavo ci fosse un caricamento Già Ah questa è la porta nera Ho capito Ho capito È veramente pieno di porte Ah Eccoci Eccoci Come ci arrivo lì Come salto sul tavolo Da sopra Ah ok Il tragico La tristezza Questa a fare qui Immagino Eh no Questo è un ascensore Che si sbloccherà Più avanti Penso Dove mai Possiamo andare Posso Eh Buonanotte Continuo A non avere Veramente idea Di dove sia la chiave L'unico oggetto È questo Il problema è che Non Si può andare E lassù Sembra che Ci sia un punto Per cadere E quindi Arrivarci Però è anche Un Ah Ecco Ok Ok Ecco Sono scemo Sono cieco e scemo E quindi non l'avevo visto E infatti Ah Bene 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 Oddio Santo No Perché ho sentito Di nuovo Quegli affari Veloce 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 Dov'è Vivia Qui Dio Santo Entra Ok Stai lì Ti prego Stai lì Allora Si possono Per caso Sì Ah È per aprire Dei passaggi Immagino Non cadere Dio Qui Uguale Però ci stiamo avvicinando Sempre di più Alla cima C'è sempre più Sangue C'è una nebbia Ah Ecco qua È Scorciatoia Nebbia Io qui Tra l'altro Ottimo Ottimo Level design Nesta zona Veramente Andiamo Andiamo Ok Corridoio Sento dei versi Indescrivibili Dall'umano Oddio Ma è una bestia Legata Come quelle Do Eh Gilbert The Outsider Ma Gilbert Quello No Quello È lui Si è trasformato Vero Anche in Bloodborne Normale Si trasforma Però Lo incontri così Fuori dalla casa Così è veramente Triste Guarda Eh vabbè Oh Mi dice di menarti Aia Aiaiai Oddio Si sta liberando Si sta liberando Si sta liberando Pian piano No Si sta liberando Sempre di più Ehi Ma è incredibile Oh no La vedo veramente Uh Sono spaccati tutti i vetri La vedo veramente male La vedo veramente male No Oh mamma santa Aiaa Pure un salto Qui è veramente Forte Lui è velocissimo No Eh Va bene No 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 Non in mezzo alle librerie Cosa fai? Ok Basta schivare lì indietro Il salto Beh se non ha altre fasi In realtà Come moveset È abbastanza semplice Da Poterlo Battere Da qui Ah gli posso fare I perri O era solo stordito Aiaa Eh ma devo ricaricare Tutte le volte Con questa Aiaiai Porca miseria Che roba Che roba È a terra Aia Maledetto Io che mi faccio fregare No Eh ma me l'ha detto Sto attacco Guarda Dai Gilbert No non perdere il mirino Dai Eh no La presa addirittura Cosa è successo? No Eh dai Eh no Ma mi ha bloccato In mezzo Dai Gilbert E allora No dai Ma per forza Mi viene da schivare indietro Perché ho il terrore Che faccia il salto No 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 Cristo All'improvviso È diventato più Ancora più aggressivo Aia Ma no Ma Ma è impensabile Dai Che stavo schivando Dai Guarda Dai che non sta Eh ciao Appena detto Dai che non sta andando male Stavo dicendo Ho il cuore a mille Ora muoio Dai che Oh Sto morendo di Di affanno Non me ne frega niente Prima mi dispiaceva Per lui Ora non me ne frega più niente E ora Oh Attenzione Filmato Campanile Campanile Cosa succede Io immagino Finisca qui Comunque È stato Difficilissimo Mora minna In Flora Flora In Flora Sa Un In Flora Aia Che dire È finito Molto molto bello Devo dire Forse l'ultima parte un po' tirata Nel senso che ritornare Nelle stesse zone Con nemici diversi Non è proprio il massimo secondo me Ma è stato veramente Ottimo Bellissimo The Make Bravissimi tutti Qui abbiamo gli sviluppatori originali Di Bloodborne Si torna alla schermata iniziale Che dire Prima serie finita insieme Sono veramente contento Il boss finale è stato veramente duro Però almeno ce l'abbiamo fatta Io vi ringrazio tantissimo Per questo viaggio E ci vediamo nella serie che sostituirà Bloodborne a PSX il sabato Ma non vi dico ancora cosa sarà Io vi fundamento Che dire Qui se gioca Ehm Te ihre Qui se gioca